La dichiarazione di uno stato di emergenza senza emergenza è inopportuna e illegittima, quindi è bene ritornare a una ordinata normalità. Professor Sabino Cassese, giudice merito della Corte Costituzionale. C'è emergenza oggi? No. E quindi in base a che cosa dichiaro lo stato di emergenza? Non parlo del negazionista Salvini, del negazionista Covid Salvini, ho deciso di non parlare. Io i negazionisti Covid non ci voglio neanche pensare a degli imbecilli di questa portata. Muovendo dalla necessità di prologare lo stato di emergenza, dopo aver esaminato in dettaglio tutte le implicazioni, i pareri acquisiti, è emerso l'indirizzo di limitarne l'estensione temporale al prossimo mese di ottobre.